Questo tipo di iniziative sono importantissime, ringrazio Torino Wireless perché aiutano le imprese ad essere accompagnate in un processo innovativo che è fondamentale per rimanere competitivo a livello europeo. Come Regione Piemonte abbiamo l'idea di aprire una grande consultazione per capire quali sono le esigenze delle imprese, soprattutto quelle medio e piccole, che sono molto importanti per il nostro tessuto economico e nel futuro anche quello di aiutare queste imprese a diventare più digitali possibili, sia per i processi interni ma anche per l'analisi dei dati che permetterebbero di aumentare il fatturato e aumentare anche l'attività produttiva.